Il 2023 non smette di regalarci fuochi d'artificio. Dopo la notizia dell'uscita del joint album Noid Salmo, un'altra notizia sta spaccando l'internet. Il nuovo disco di Sfera e Basta è presto fuori. A svelarlo è stato Shablo durante un'intervista a Radio 105. Nel post teaser pubblicato dal profilo Instagram della radio, Shablo ha affermato che il disco di Sfera potrebbe uscire molto presto. Sono mesi che lavoriamo a un nuovo disco e ti confido che effettivamente ci siamo. e probabilmente per fine mese potremo uscire. Non ci resta che aspettare i news, ma una cosa è certa. Il 2023 si concluderà col botto. Quanto sei in hype da 1 a 100.000? Scrivicelo nei commenti e segui... S, musica e quello che la ispira.